Bonificare il bacino del fiume Sarno e i suoi affluenti e rendere il mare balneabile entro l'estate 2025. E' questo l'obiettivo della Gori e della regione Campania. Le opere finanziate da Palazzo Santa Lucia montano a 177 milioni di euro e permetteranno di convogliare nei depuratori i reflui di 55.000 abitanti dei comuni che affacciano sul fiume e sui suoi affluenti. Gli interventi riguarderanno il completamento della rete fognaria dei comuni di Poggio Marino e Torre Annunziata per un importo totale di investimenti che ammonta a 19 milioni e 800 mila. Dei 113 scarichi da eliminare attualmente ne restano attivi ancora 80. La bonifica del Sarno per la regione e i comuni dell'agro sarnese è di un'importanza fondamentale non solo da un punto di vista ecologico ma anche economico per la tutela dei paesaggi e delle coltivazioni come spiegano l'assessore alle attività produttive del comune di Sarno Francesco Squillante e il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese. La regione Campania è scesa, anzi ha ripreso ciò che era dormiente negli anni passati, ha ricominciato, speriamo che i lavori partano il prima possibile per iniziare a vedere una realtà. È davvero uno spettacolo vedere quest'acqua limpida appunto dolciva e sarebbe bello che rimanesse così anche più a valle nel più esatto. L'acqua quindi come fonte di vita ma anche necessaria alla coltivazione dei prodotti di qualità da esportare dalla Campania in tutto il mondo. Questo è il pensiero di Antonio Limone direttore dell'istituto zooprofilattico del mezzogiorno. La Campania non è una terra che produce prodotti qualsiasi, produce prodotti di grandissima qualità. Lo fa perché è una terra vulcanica, lo fa perché è una terra che ha un'incidenza dei raggi solari al suolo particolarmente interessante per le produzioni, lo fa per le sue condizioni pedoclimatiche.